Ma chi è? Ma chi è? Ma come è? Vai di là, vai di là Mi fai da questo Bravo Mi fai da questo Mi fai da questo Mi fai da questo Eh ciao di lì Di lì la devi chiudere doppia Non c'è problema Non c'è problema vai No ma io la faccio andare Mi sono capace di girare Basta che quando hai girato apri tutto Si c'ho Guarda questo asso lì Oh Non anche la stessa Non è normale Questa è la prossima volta Lo ritrova Sottice di sei spasciato, hai filmato? Certo Andrea, Andrea, Andrea E allora? Bravo